Salve amici appassionati di Football Manager, qui con me come sempre c'è il Mike 94, ovviamente Football Manager d'Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2019 con il nostro mitico Santa Clara e oggi andremo a vedere la partita con il Porto E in più ci sono diverse novità che voglio ovviamente mostrarvi In primis di mercato, anche se sto aspettando ancora l'ufficialità per alcuni movimenti che ho fatto Quindi poi dopo la partita andrò avanti da solo E in più c'è una novità per quanto riguarda la squadra Infatti anche per questa avventura il mio amico Jamil ci ha fatto le magliette Sono veramente bellissime, io della prima sono follemente innamorato E lo ringrazio veramente infinite volte anche perché ha una grande grande pazienza E per questo lo ringrazio di nuovo In più vi lascio qui sotto in descrizione il link del suo profilo Instagram Io purtroppo non ho né il profilo personale né quello del canale YouTube Però se voi ce l'avete mi raccomando seguitelo perché fa dei lavori veramente eccezionali Poi anche il nostro sponsor di squadra quindi mi raccomando link in descrizione andatelo a seguire Sono bellissime e ovviamente poi le andremo anche a vedere in campo E ovviamente ragazzi lo ringrazio di nuovo per questo lavoro veramente eccezionale Detto ciò direi di andare subito a bomba a vedere la partita con il Porto Partita che sarà veramente molto molto difficile perché giochiamo in casa loro Perché giochiamo con una grande squadra Però ovviamente giochiamo con la titolarissima Belec, Gigliotti, Cardoso, Buato, Lucas, Patrick, Rashid, Marquez, Lama, Sebagua e Tiago Santana Voglio provare anche per questa partita a giocare con questo modulo un po' più offensivo Un po' sbarazzino per vedere anche la squadra come si comporta E poi vediamo insomma voglio testare per un po' più di partite questo modulo Che comunque ha funzionato abbastanza bene contro lo Sporting Lisbono abbiamo perso ma abbiamo giocato bene Contro la squadra di dopo abbiamo vinto e abbiamo giocato anche una discreta partita Quindi vediamo anche contro il Porto cosa riusciamo a fare Ovviamente il Porto è una squadra molto molto più forte della nostra Intanto quasi sfioravamo il gol Hanno un portiere incredibile Casillas che purtroppo nella realtà ha avuto un infarto E speriamo che si possa riprendere al più presto Poi ha altri giocatori incredibili Militao, Pepe, Corone, Herrera, Braimi Insomma ha una squadra veramente forte Una squadra europea E quindi già un pareggio sarebbe orocolato Ma anche già una prestazione decente mi renderebbe più che felice Non chiedo molto alla squadra Però almeno di giocare abbastanza bene Anche se adesso arriva il gol di Braimi che ci può stare Però ripeto Questo è il mio obiettivo per oggi Purtroppo ragazzi il mercato è un po' ostico Perché non ci arrivano offerte ufficiali Insomma nessuno vuole prendere a titolo definitivi i nostri giocatori Se non per comprestiti che alla fine non sono molto convenienti O che comunque rendono i giocatori infelici Quindi provo per questo Intanto sono aggressivo perché voglio provare a spronare la squadra Quindi non credo che oltre al cambio che già sto facendo Riuscirò a fare grossi movimenti per migliorare ancora di più la squadra Però credo che già abbiamo fatto un buon lavoro Purtroppo numericamente siamo tantissimi a centro campo Ma non mi nascondo che sinceramente avrei voluto migliorare un po' anche quel reparto Abbiamo già ottimi giocatori Ma mi avrebbe fatto piacere prendere un centro campista di quantità veramente forte Accontentiamoci di quello che abbiamo In difesa già abbiamo fatto grandi passi da gigante In attacco pure abbiamo fatto qualcosina E ancora adesso sto cercando di migliorare A breve vedrete dopo questa partita Insomma il nostro lo stiamo facendo Ovviamente l'obiettivo non è quello di vincere il campionato Ma almeno di confermarci nella prima categoria Semmai anche nella metà alta sarebbe un sogno Vediamo un po' come si mettono le cose Forse calcio di rigore Ma a me non sembra che Pepe sia stato spinto poi così tanto Invece si dà il calcio di rigore Peccato C'è Obabacar che lo batte E c'è Belec che praticamente non si butta nemmeno Subiamo il gol del 2-0 Gol che ripeto ci può stare Sacro santo Vediamo Purtroppo E' così ragazzi Non possiamo vincerle tutte Ci sta Per perdere contro queste squadre Vorrei fare dei cambi Comunque leviamo la scide Mettiamo Ramos E Poi Chi potremmo togliere Bruno Lamas Mettiamo Kreen Poi c'è anche Boatu Che stanco Anche che è appena arrivato Mettiamo Guitan Giusto così Per far giocare anche loro Vediamo se cambia qualcosina Abbiamo cambiato a centrocampo Intanto Lucas si fa monire A sapere Levavo lui Però ho levato Boatu Ragazzi Perché è appena arrivato Quindi non voglio che si ammazzi Giocando tutte e 90 minuti Avete visto anche le magliette in 3D E sono veramente fighissime Cioè sono veramente stupende Intanto altro calcio di rigore Non credo perché era fuori l'aria Sinceramente 3-0 Sarebbe un po' troppo pesante Vediamo Poi soprattutto Che arriva dopo due rigori Che cavolo Vediamo che fa Mi sembrava fuori l'aria Sì Infatti calcio di punizione E vabbè Semmai Nelle prossime partite Provo anche le altre tattiche Ci può stare questa sconfitta Ovviamente mi dispiace Mi dispiace sempre perdere Ma mi rendo conto che Quest'anno un po' ci dobbiamo abituare Soprattutto contro queste grandi squadre Io però nonostante questo Dico che il risultato non mi soddisfa Perché sicuramente potevamo giocare meglio La partita contro il Ferenze L'abbiamo vinta 3-0 Tripletta di Tiago Santana Non ve l'ho mostrata Perché oggi volevo dedicare questo video Alla partita con il Porto In più alle varie novità che ci sono In più avevo iniziato già delle operazioni di mercato Che non avevano ancora raggiunto l'ufficialità E quindi ho preferito andare avanti in solitaria Per quanto riguarda il resto Molto spesso nei commenti mi scrivete Di mostrarvi anche le novità Per quanto riguarda le tattiche Le novità per quanto riguarda le finanze Eccetera Per quanto riguarda le finanze Ragazzi non abbiamo grossi problemi Siamo adesso in perdita di 2.000 euro Però per il resto va tutto bene Sul mercato non abbiamo speso praticamente nulla Abbiamo comunque ancora un buon budget trasferimenti 126.000 euro In più anche il Montengaggi Spendiamo solamente 2.300.000 Su 2.600.000 Che comunque la società ci dà Quindi diciamo che non ci possiamo lamentare Nella società effettivamente ci può dire nulla Sono per il momento abbastanza contenti Della direzione che stiamo prendendo Prendendo con questa squadra Anche se sono abbastanza delusi Dalla cessione di Binocia Io non sono molto concorde Da questa delusione Addirittura sono molto delusi Prima erano tantissimo Adesso sono leggermente delusi Ma prima erano veramente distrutti Da questa cosa Però sinceramente a me non pesa Cioè a me non importa più di tanto Perché comunque era su un giocatore valido Però non ci serviva Aveva 30 anni È un esterno E noi non utilizziamo molto esterni Poteva sì giocare come trequartista Ma abbiamo diversi trequartisti già in squadra Quindi diciamo che L'ho voluto cedere Anche perché era l'unico giocatore Che effettivamente Poteva essere venduto E sulla quale ci potevamo fare un po' di soldi In più vabbè anche i club affiliati Ogni tanto mi chiedete Abbiamo queste tre squadre Affiliate ma non sono niente di che Quindi va bene così Semmai l'anno prossimo Faremo qualche affilazione Con squadre importanti Anche se per il momento Non ci è servito Alla fine la squadra già L'abbiamo Bella che costruita Per quanto riguarda invece Le tattiche Diciamo che L'unica novità è che L'ultima tattica Che ancora non ho utilizzato benissimo Ho fatto questo cambio Ho messo in questo caso Regista arretrato Invece di incontrista Perché non abbiamo effettivamente Mediani Che possano fare gli incontristi Ma abbiamo solamente Lucas Marquez Che bene o male Se la cava come regista arretrato Quindi per il momento Ho fatto questo cambio E semmai questa tattica La proveremo Semmai quando andremo a giocare Col Benfica O comunque con qualche altra squadra Veramente forte Per quanto riguarda il mercato Siamo riusciti a cedere In prestito Evouna Giocatore che effettivamente A me non piaceva E quindi bene così L'abbiamo mandato via Al Setubal Che ci paga il 100% Dell'ingaggio Più 9000 euro Al mese Quindi comunque A fine anno Ci faremo quasi 100.000 euro Da questa cessione in pressa Che comunque schifo Non fanno E per di più C'ha anche il diritto Di riscatto A 365.000 euro È un po' meno Rispetto al suo valore Però ragazzi Sinceramente Se riusciamo a venderlo A quella cifra Vado a stappare Lo spumante E Era un giocatore in più Un giocatore che effettivamente Non ci serviva Però Ho cercato sul mercato Comunque un sostituto Un attaccante Che potesse migliorare Ancora di più La squadra Fra i vari giocatori Che ho valutato C'era questo Kai Che è un giocatore Devo dire la verità Molto molto interessante Che avrei voluto Fortemente Nel nostro Santa Clara Il problema è che Chiedeva Inizialmente 350.000 euro Di ingaggio Che sono veramente Una barca di soldi Noi gli potevamo offrire Massimo 221.000 euro Avevamo anche trovato Un accordo Però dovevo dare Tipo 60.000 euro Alla gente 50.000 euro In più a lui Un sacco di bonus E sinceramente Alla fine Non me la sono sentita Perché comunque Ha 30 anni Perché comunque Sono tanti soldi Per un ruolo Nella quale Già siamo abbastanza coperti Quindi sinceramente Non mi sono sentito Di spendere quasi Tutto il nostro budget Per un giocatore solo Anche perché volevo Ottenere dei soldi Per il mercato Di gennaio Perché ragazzi Alla lunga Potremmo notare Dei reparti In cui siamo Un po' più scarsi E quindi poi Con il mercato Invernale Possiamo correre Ai ripari Però nonostante questo Volevo prendere L'ultimo giocatore Per migliorare ancora di più Il reparto offensivo Non perché non mi piace Bagua ragazzi Ovviamente È un pezzo di cuore Però volevo Un altro grande attaccante Che potesse affiancare Tiago Santana Insieme ovviamente A De Bagua E ho preso In prestito Dal Norimberga Zrelak O comunque Adam Chiamiamolo Adam È più facile Giocatore Non affatto scarso Vale 2 milioni e 100 Che per noi È una grande cifra Comunque ovviamente Prestito annuale Paghiamo il suo Ingaggio 156 mila euro Se non sbaglio Paghiamo la metà Sì giusto La metà E devo dire Che non è affatto male Come giocatore Può fare L'attaccante che pressa Che è il ruolo Che poi più ci serve Mentalmente è validissimo Fisicamente è una bestia Tecnicamente ha delle pecche Sicuramente ha delle pecche Colpo di testa e finalizzazione Tanta roba Però pecca un po' In controllo palla E passaggi Me ne rendo conto Però ragazzi Lui effettivamente Era il miglior giocatore Che potevamo prendere Potevamo anche effettivamente Non prendere nessuno Però volevo Un tassell in più Anche perché poi A parte Bagua Non abbiamo Grandi attaccanti Perché alla fine C'è Zemanuel Che si sta allenando Come attaccante Che pressa Però insomma Non è proprio Un attaccante Quindi lo utilizzeremo Proprio in caso di emergenza Poi c'è Paolo Clemente Che è infortunato Ritornerà fra due mesi E poi è in grande calo Ha comunque 34 anni In scadenza Quindi se ne andrà Perché io il contratto Non io lo rinnovo Quindi non so Quanto ci possa poi Aiutare fra due tre mesi Anche perché comunque Se torna fra due mesi Significa novembre Mentre recuperare La forma fisica Significa dicembre Per un giocatore Che poi effettivamente Non è granché Proprio per questo Ho preferito Prendere un giocatore Che ci possa dare Una grande mano Ovviamente non Rubberà lo spazio A De Bagua Però sicuramente Lo faremo giocare Alterneremo molto I due giocatori E speriamo che possa fare Sicuramente bene In teoria potrei anche Mettere attaccante Che pressi attacco Perché lo sa fare meglio Però vabbè Alleniamolo anche In supporto E quindi questo Il mercato è praticamente Concluso Anche perché siamo Al 2 di settembre E non abbiamo avuto Altre offerte In teoria Potevamo dare in prestito A Cioli Però ho preferito Tenerlo Perché comunque Alla fine è il vicecapitano Perché comunque Come ultima alternativa In difesa Ci può stare Non è poi così scarso Fisicamente non è granché Ma diciamo che Questo anno Facciamo io lo fare Poi ovviamente Lui Paceco Clemente Se ne andranno Per far spazio A comunque giocatori Più forti E soprattutto Più giovani Di solito Non prendo giocatori Oltre i 31 anni Perché poi Vanno Hanno un grosso Calo fisico In più Ultima cosa Il terzo portiere Ha chiesto di terminare Il prestito Sinceramente ragazzi Non ho proprio Discusso con lui Ho accettato la richiesta E l'ho mandato via Poteva anche esserci utile È un terzo portiere Però alla fine Tenere un giocatore scontento È praticamente inutile Quindi L'ho salutato Arrivederci e grazie Anche perché comunque Se proprio siamo In grandissima emergenza C'è abbiamo Florian Vietti Che non è sto grande portiere È un giovane Eccetera Però ragazzi Dobbiamo essere proprio sfigati A vedere sia Belec Che Marco Infortunati Ora che l'ho detto Sicuramente si scassano Però insomma Direi che Eravamo partiti Con Marco titolare E poi vabbè È arrivato Belec Quindi credo Che con questi due Può andare bene E poi vabbè All'evenienza C'è lui C'è Vietti Ma sapete bene Che io di solito Non prendo mai Tre portieri Vanno bene due Sono più che sufficienti Ecco Detto ciò ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare qui Credo che nel prossimo episodio Andremo a finire Il mese di settembre Andremo un po' più avanti Ripeto Oggi vi ho voluto far vedere Un po' di novità Le finanze La tattica Il mercato La partita con il porto Che abbiamo malamente perso Però insomma Volevo mostrarvi un po' Queste cose Poi ovviamente Dal prossimo episodio Andremo a bomba Con le partite Non credo di farvi vedere Proprio tutti i match Perché sennò veramente Non finiamo mai La prima stagione Però insomma La maggior parte sì Perché comunque Sono tutte squadre nuove Per noi Detto questo Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ringrazio di nuovo Infinitamente Jamil Mi raccomando Il link qui sotto In descrizione Grazie per tutto quello che fate E ovviamente Mettete vi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Alla pagina Facebook Alla pagina Instagram Di Jamil E di nuovo Grazie per tutto E come sempre Un saluto da Mike44 Ovviamente anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi